Mario, bel nome, anche questo Pio non direi, però per molta gente questo sarebbe il maschile di Maria. In questo caso dovrebbe essere Mario, ma Mario è ben più vecchio. Quanti personaggi storici dell'antica Roma, ben prima quindi dei problemi bilbici e evangelici si chiamano Mario. Mario è un nome di origine etrusca e significa uomo, persona. Tanto è vero che l'autore delle neide Publio Virgilio Marone era un bestione, un omaccione, quindi si chiamava Publio Virgilio. Marone perché era un bestione, era un omaccione, ecco quel Marone, da cui invece è un uomo semplice, si chiama Mario. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.